Quindi, le cose inanimate hanno un impatto su di te? Sì, se lo consenti. Sei l'unica creatura su questo pianeta a cui è stata data la libertà di plasmare la tua vita. È di questa libertà che gli esseri umani stanno soffrendo. Come porta fortuna, tienilo in tasca. Se ce l'hai sul dito, penseranno che sei... Nella società indiana, quando qualcosa va storto, diciamo che qualcuno non sta bene, ci sono tre tipi di persone. Quelli che vanno in ospedale, poi ci sono quelli che corrono al tempio e poi ci sono i terzi che corrono dagli astrologi. Ci viene effettivamente insegnato fin dall'inizio che gli oggetti inanimati e le cose intorno a noi hanno il potere di controllare le nostre vite. Per esempio, mia madre, due o tre anni fa, mi disse di indossare un anello che aveva una gemma. Lo porto ancora, ovviamente, perché è quello che ha detto mamma. Devi toglierlo, altrimenti i ragazzi penseranno... Come portafortuna, tienilo in tasca. Se ce l'hai sul dito, penseranno che sei... Vedi, la vita umana è fatta in modo tale, in particolare la vita umana. Per tutti gli animali, la natura ha fissato un cammino preciso. Cosa possono fare, cosa non possono fare. Le loro vite accadono tra due linee. Non possono andare al di sotto di quello, e non possono andare al di sopra di quello. All'interno di quello vivono. Ecco perché appaiono così sicuri e certi e sono pacifici. Una volta che il loro stomaco è pieno, sono tutti pacifici. Vedete questo? Ci siete? State dialogando con me o no? Vedi, tutti gli animali, una volta che il loro stomaco è pieno, sono pacifici. Ma gli esseri umani stanno pensando, o gli viene insegnato, che la pace è lo scopo ultimo della vita. Un bufalo a stomaco pieno sta seduto in pace. E per te, quello è l'obiettivo finale. Che peccato! Ciò che un bufalo può fare con lo stomaco pieno d'erba, o qualsiasi altra cosa mangi, devi considerarlo l'obiettivo finale. Non è un peccato, ti chiedo. Ma questo viene insegnato così. La pace è l'obiettivo finale della tua vita. Ma venendo a cose più fondamentali, se non sei pacifico oggi, puoi goderti la tua cena oggi? No. Puoi semplicemente goderti di camminare per strada? Puoi goderti la compagnia di alcune persone intorno a te? No. Se non è statico, almeno devi essere pacifico per goderti qualsiasi cosa nella tua vita. Quindi chiedo, dovrebbe essere il primo passo nella tua vita o l'ultimo passo nella tua vita? Tali persone riposeranno solamente in pace. Ora, altre cose hanno influenza su di noi, in particolare gli oggetti inanimati. le gemme e i diamanti e cose del genere e anche i pianeti. Vedi, la natura del pianeta ha una certa influenza sulla vita su di esso. Vedrai, nei giorni di luna piena e nei giorni di luna nuova, molti animali si comportano in certi modi specifici semplicemente perché ne sono influenzati. Sai che l'interoceano si solleva? Quando l'oceano, che è milioni e milioni di tonnellate d'acqua, è in grado di sollevarsi, quando il 72% del tuo corpo è acqua, pensi che non si solleverà affatto? Lo fa. Quindi, non so se ne sei consapevole, ma in India la maggior parte delle persone lo sono. Non solo in India, ovunque ci siano manicomi e altro, ne sono consapevoli. Nei giorni di luna piena, nei giorni di luna nuova, le persone hanno livelli esagerati di perturbazione nella propria mente. Quindi, le persone pensano che la luna nuova e la luna piena causano pazia. No, non è la verità. Se sei molto amorevole, un giorno di luna piena diventerai più amorevole. Se sei molto gioioso, in un giorno di luna piena diventerai più gioioso. Se sei un po' pazzo, diventerai un po' più pazzo. Qualunque sia la tua qualità, viene un po' esaltata in quel giorno. Quindi, quelli che sono romantici vogliono il giorno di luna piena. Quelli che vogliono meditare vogliono il giorno di luna piena. Quelli che sono un po' matti non vogliono il giorno di luna piena. Essenzialmente, esalto un po' le cose. Naturalmente, oggi, c'è un altro tipo di scienza da libri di testo che circola, che non osserva nulla eccetto ciò che accade nel laboratorio. Queste persone continuano a dire questa è tutta spazzatura, questo, quello. No, se presti attenzione al tuo corpo, saprai, senza guardare in su, senza guardare il calendario, saprai quando è un giorno di luna piena, quando è un giorno di luna nuova. Da solo, semplicemente, se presti sufficiente attenzione al tuo sistema, perché è visibile nel tuo sistema, c'è un certo comportamento. Ma con un essere umano il problema è, o le persone lo vedono come un problema, qualsiasi possibilità, se non esplori quella possibilità, ai tuoi occhi sembra un problema. Ciò che è un problema è sempre una possibilità, non è così? non ti piace? Ciò che è una possibilità, se non l'esplori, se non realizzi quale sia la possibilità, ti sembra un problema. Quindi, le cose inanimate hanno un impatto su di te? Sì, se lo consenti, perché questa è la condizione umana, che chi sei non è determinato della natura, è lasciato aperto per te. Lasciato aperto per te significa che sei l'unica creatura su questo pianeta a cui è stata data la libertà di plasmare la tua vita. È una cosa da poco? Questo è un prodotto di milioni di anni di evoluzione che oggi, dopo tutte queste creature, da un animale unicellulare dopo questi milioni di forme, eccoci qui, seduti. Questa è l'unica creatura che può plasmare la propria vita nel modo che vuole. Ogni alta creatura deve vivere secondo le leggi della natura. Noi possiamo plasmare le nostre vite. È di questa libertà che gli esseri umani stanno soffrendo. Se stai soffrendo il tuo vincolo, va bene. Se stai soffrendo la tua libertà, sei un disastro. Non è così? Stai soffrendo i tuoi vincoli. Sei incatenato a qualcosa, ne stai soffrendo. Comprensibile. Ma stai soffrendo perché sei libero. La maggior parte degli esseri umani sta soffrendo perché sono liberi. Cercano sempre di legarsi a qualcosa o qualcuno tutto il tempo perché la libertà li spaventa. Perché la libertà è un cammino senza cammino. La libertà è un terreno aperto. Non c'è una linea fissa. Siccome non esiste un cammino fisso, la maggioranza si sente terrorizzata. Ma il valore più alto nella vita umana è la libertà. Non è così? Ci siete? In questa cultura il valore più alto in questa cultura non è Dio. Nel paradiso. Mukti Moksha Liberazione La libertà è il valore più alto. Stabilito ciò non importa cosa fai devi cercare Mukti. Puoi fare qualunque cosa fai con la tua vita ma tutto quel processo dovrebbe essere verso la tua liberazione. Devi muoverti verso livelli di libertà sempre più alti su base giornaliera. Altrimenti la tua vita non ne vale la pena perché stai rimanendo legato al processo della vita. Anche se vai in paradiso è un attaccamento che ti lega. Sono sicuro che prima che ti iscrivessi all'I.I.T mantenete ancora Bobbe, giusto? Vedo prima di iscriverti all'I.I.T quando hai scritto la tua domanda i test di ammissione e altro l'unica cosa in qualche modo voglio essere ammesso voglio essere ammesso perché è come il paradiso entrare in paradiso a qualunque costo voglio essere ammesso questa è l'unica cosa che voglio dopo essere stato ammesso guarda quanti problemi. Ti faccio una semplice domanda essendo su questo pianeta hai qualche prova che non sei già in paradiso e non ne stai facendo un disastro? hai qualche prova? Supponi che hai decollato da questo sistema solare e hai guardato giù a questo sistema solare questi 12-14 pianeti e satelliti e il funzionamento il pianeta Terra decisamente sembra un corpo celestiale tra tutti questi sì o no? quindi sei già in paradiso e ne stai facendo un disastro e ora vuoi andare in un altro paradiso questa cultura non apprezza il paradiso non apprezza Dio apprezza solo la libertà vogliamo essere liberi perfino dalla creazione e dal creatore mukti moksha è il valore ultimo perché questo non è un valore filosofico questo non è un valore religioso questo è qualcosa a cui ogni vita anela l'unica cosa è la maggior parte degli esseri umani sono miopi e anelano a questo a rate vedi qualunque cosa le persone cercano ora se non hanno nulla diranno se ricevo 100 rupie al giorno Shiva è tutto ciò che voglio questa è una preghiera sono cadute 100 rupie 100 rupie bene 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 per tre giorni 100 rupie bene al quarto giorno solo 100 rupie Shiva che problema hai sei così avaro almeno 1000 rupie al giorno ok è caduta una banconota da 1000 rupie è valuta legale la banconota da 1000 rupie no no ok sono cadute 2000 rupie non voglio mettermi negue con questo dov'è che cadono 1000 rupie per Sadhguru dove li ha no no sono cadute 2000 rupie ne hai chieste 1000 ne sono cadute 2000 meraviglioso Shiva fantastico dopo 10 giorni oh solo 2000 rupie non importa quante ne cadano qualcosa di più qualcosa di più qualcosa di più non è così non si tratta di soldi le persone pensano che si tratti di soldi le persone pensano che si tratti di ricchezza potere piacere amore conoscenza no queste sono tutte valute diverse essenzialmente cerchi espansione perché ti senti soffocato se ti teniamo nello stesso posto troppo a lungo ti senti soffocato vuoi l'espansione vuoi essere sempre qualcosa di più tutto il tempo sì o no sempre qualcosa di più ti accontenterai dell'appagamento no guarderai altri pianeti guarderai le nuove galassie quindi c'è qualcosa all'interno di un essere umano che vuole espandersi senza limiti ciò significa che vuole essere libero nient'altro osservando questo attentamente osservando la natura della vita all'interno che vuole espandersi in modo illimitato l'unica cosa qui anela è diventare sconfinata ciò significa che sta cercando la libertà ecco perché in questa cultura abbiamo stabilito che il valore più alto è mukti o moksha che significa liberazione o libertà non il paradiso non perché il paradiso è semplicemente un altro posto forse alloggio un po' migliori ma ha lo stesso problema dopo un po' di tempo non è così? non è così non è così non è così non è così